ciao benvenuti al caseificio montrone oggi trasformeremo il tiramisù in un dolce leggero ed estivo in una ciotola mescoliamo la ricotta con lo yogurt greco lo zucchero a velo e la scorza di limone grattugiata a parte frulliamo le fragole con il succo di limone ne teniamo da parte qualcuna intera per guarnire il dolce bagniamo con la purea di fragole e copriamo con la crema di ricotta facciamo un altro strato nello stesso modo infine decoriamo il tiramisù con le fragole intere e le gocce di cioccolato fondente facciamo raffreddare in frigo per almeno due ore prima di servire possiamo sostituire le fragole con l'ananas o con delle pesche caseificio montrone la ricetta della tua estate